Da qualche mese è tornato un uomo libero, Antonino Speziale, il ragazzo accusato di aver ucciso quel 2 febbraio di 14 anni fa rispettare capo di polizia Filippo Raciti nel corso degli scontri all'esterno dello stadio Massimino dove si giocava il derby calcistico tra Catani e Palermo. Un episodio che ebbe risonanza internazionale e sul quale il legale che assiste il ragazzo chiede adesso la revisione del processo alla luce anche di recenti inchieste giornalistiche che hanno svelato ulteriori particolari, intanto oggi è il primo anniversario di quell'attrista 2 febbraio 2007 che Antonino Speziale vive al di fuori del carcere. Capitato è il primo anno che sono in libertà ma tengo a precisare che 14 anni fa in questo giorno è morto una persona è un fatto molto tragico. Ti ricordi di quella giornata? Molto confusionario e molto convincente perché è stato un episodio molto particolare della mia vita è cambiata molto la mia vita in questo momento. Qual è adesso la prospettiva che vedi di fronte a te? La prospettiva che vedo di fronte a me è godermi la mia famiglia, trovare un lavoro e sto affrontando questo percorso grazie a un psicologo che mi sta aiutando perché questa esperienza ha lasciato molti strascichi nella mia vita. La giustizia sarà fatta con la giustizia, io ancora oggi credo la giustizia. Sul processo saranno le carte a dimostrare se pienamente sono innocente, come so fin dall'inizio. Grazie alle Iene molte persone hanno visto realmente cosa è accaduto in questa storia e erano molte persone che credevano alla mia giustizia e grazie a loro in tutta l'Italia ben umano hanno potuto farsi un'opinione e infatti ho avuto la risposta di quel psicologo che gli dicevo, il dottor Paternò che si è offerto di curarmi in questo percorso le mie grepature che ho avuto in questa esperienza. Antonino Speziale è assistito dall'avvocato Giuseppe Lipera che confida nella revisione degli atti processuali. Abbiamo sempre mosse dare tutto il materiale che abbiamo raccolto e che raccoglieremo in questi giorni alla magistratura perché poi aspetta sempre loro. C'è stato questo servizio delle Iene che ha smosso un po' le acque e un stato di solidarietà intorno a Speziale. Una cosa pazzesca, dalla Val d'Aosta a Portopalo, a Bolzano, a Trapani, una cosa incredibile. Tanta gente o era distratta, non ci credeva, i servizi delle Iene veramente hanno fatti bene fra l'altro e con dati fattuali veri hanno veramente creato un'opinione pubblica che adesso si aspetta una risposta. Cioè non cambierà nulla, per me è un Speziale innocente anche se non lo dice il Tribunale, non cambierà nulla in questo senso, cambierà per l'opinione pubblica, sì è importante. E sono cambiate tante cose, in stato di libertà, sono passati 14 anni in un ragazzino, un uomo fatto, e appunto c'è questa solidarietà tra la gente che lui non si aspettava. io credo che ora verranno gli anni migliori della sua vita, io lo auguro a sto ragazzo.